Ciao 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 a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Dusdus e oggi ci sarà lo speciale 35 iscritti Se questo video arriverà a 10 like uscirà un video con Tony08 Non vi spoilerò nulla, bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti